La settimana è iniziata per i mercati all'insegna del dubbio, all'insegna della indecisione, c'è una fase di sostanzialmente stabilità di Bitcoin, di Ethereum, ragazzi, ma anche dei mercati americani, però non c'è in effetti un breakout o una capacità di reagire da determinati livelli e la possibilità di superare delle resistenze molto rilevanti che farebbero ben sperare per una nuova fase nelle prossime settimane. Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video, ragazzi, e oggi parliamo di quella che è la situazione ciclica nell'analisi di Bitcoin, di Ethereum, dei mercati cripto, ma parliamo anche della questione italiana, ragazzi, perché elezioni italiane svoltesi proprio nella giornata di ieri, come stanno andando i mercati? Quindi riprendiamo quello che era uno dei miei grafici di qualche annetto fa, cioè il grafico sullo spread, ragazzi. I mercati sembrano, in sostanza, non avere particolare paura del cambio al governo in Italia, il problema oggettivamente non è inerente al fatto degli schierimenti destra-sinistra, ma è inerente al fatto che si ha di fronte un partito, diciamo, con una maggioranza che è ritenuta appunto di estrema destra, eccetera, così come a livello europeo viene indicata. Questa cosa qui, ragazzi, quindi poteva portare a del fermento sui mercati, soprattutto legata alla questione del debito. Questa cosa sembrerebbe essere iniziata nel pomeriggio di oggi, ma non essere molto, molto grave. Ora, ragazzi, è indubbio che bisognerà andare a controllare questa cosa, vi faccio vedere subito i grafici, legati, per esempio, allo spread italiano che, proprio nella giornata di oggi, ha iniziato a segnare un pochettino. Aveva iniziato questa mattina benino, sono sincero, quindi, insomma, sempre rialzo, però mantenendosi. Invece poi la giornata iniziata ha proseguito male, infatti siamo a più 6,21 sullo spread con il bundo, ciò significa che siamo ancora nell'area che è definibile, area, ragazzi, questo l'ho pubblicato, di tensione. È ovvio che se dovessimo andare al di sopra di questa quota, 330, 350, diventa pericolosissimo per l'Italia e la questione sarà, appunto, da tenere in forte considerazione. Per tanti, tanti motivi, magari, insomma, speriamo di no, però il rialzo di oggi è comunque un rialzo da tenere in considerazione. Vediamo domani, dopo domani, se soprattutto regge questo livello sullo spread, perché già il livello di spread a 2,45, 2,50 è molto alto, ragazzi. Però è anche vero che, vedete come negli anni scorsi, nell'anno scorso e negli ultimi mesi, lo spread italiano ha comunque già iniziato a salire rispetto al bundo, quindi, insomma, c'è da considerare questo rialzo di oggi come appartenente alla questione politica, però ancora non è pericolosa la questione. Vi faccio vedere anche il Fuzzimib, che addirittura ha reagito con una sostanziale stabilità, quindi un leggero 0,6, insomma, in pratica, il niente, né su e né giù. Questo significa che i mercati hanno considerato l'elezione italiana come una elezione di rito, quindi, in sostanza, secondo i mercati, non dovrebbe cambiare nulla in termini di politica sui bilanci e sul rispetto delle normative europee, almeno così sembra da questi dati di mercato. Qualora i mercati si sbagliassero su queste cose, magari le nuove formazioni politiche iniziano a ragionare in altri termini, quindi sporamento di bilancio, insomma, le solite cose, probabilmente questi grafici ci daranno un'indicazione anche su come la pensano i creditori internazionali di questa roba, ragazzi, perché il problema è che la politica comunque negli ultimi anni, a prescindere che sia in Italia o, diciamo, Francia o Germania, è fortemente dipendente dalle relazioni internazionali con i creditori internazionali, visto che l'Italia è un paese straindebitato, in pratica ha le mani legate, no? Quindi come si muove, muove, o decide di andare in default e quindi poi diventa nuovamente libera, però a che costo, no? Perché dovremmo comunque prelevare il cash dei singoli cittadini per pagare i debiti e bla bla bla, oppure, insomma, siamo costretti, diciamo, a sottostare delle regole di bilancio. Questo è il problema dei mercati globalizzati internazionali ed è quello che probabilmente sarà affrontato. Quindi, elezione italiana è passata un po' in sordina, da un punto di vista dei mercati sembra che tutto sia normale, solo lo spread ha iniziato a salire, ma finora ancora è accettabile, vediamo nei prossimi giorni se dovesse cambiare qualcosa. Fermo restando, abbiamo chiuso questa parentesi, che so, molti di voi erano di interesse, quindi magari ci stavo ogni tanto a parlare dell'Italia, ragazzi. Non vi parlo, per esempio, dell'analisi ciclica del Fuzzimib Italia, perché è collegata, in questo caso, non è la questione delle elezioni, ma è collegata alla questione dei cicli che, ovviamente, portano il Fuzzimib, come gli altri indici, ragazzi, ad essere in una fase ciclica che sicuramente andrà poi in fase di bastista. Vedete, questa è una fase che è a metà, potrebbe fare l'ultimo rimbalzo per andare a chiudere un ciclo quadriennale, un po' come Bitcoin, insomma, è fatto così, ma magari ne parliamo se dovessero esserci dei movimenti consistenti da questi punti di vista. Allora, andiamo invece a vedere l'analisi ciclica sui mercati delle crypto, iniziando da Bitcoin, perché, in teoria, ragazzi, finora anche i rialzi, i tentativi di rialzi dei giorni scorsi, non hanno in nessun modo modificato quello che è la situazione di questo ciclo mensile che, se è confermato questo ciclo, iniziato il 7 di settembre, ha fatto il suo massimo il 13 di settembre e poi è andato down, ragazzi, a bucare il minimo del ciclo sottostante, questa conformazione ci porta all'idea che il ciclo mensile di Bitcoin sia al ribasso. Non c'è nessun'altra soluzione, a meno che non abbiamo un'anomalia e su questo minimo, il 21 di settembre, non sia stato chiuso un ciclo anomalo che fa riferimento a tutta questa fase qui. Essendo che è stato fatto un minimo incluso inferiore, questa cosa è possibile, ragazzi, perché potrebbe aver chiuso su questo minimo un annuale proprio Bitcoin. è anche vero che è un po' precoce, un po' prematuro, manca ancora un po' di tempo e soprattutto non abbiamo nessun dato al momento che ci fa rispondere a questa domanda. E come ben sapete, io non anticipo mai i mercati, ma sono trend follower e questo mi consente di rischiare molto, molto di meno andando a fare dei bad dip improvvisati, perché ancora i mercati hanno un'impostazione ribassista e quindi non mi interessa in questa fase. C'è un solo livello che potrebbe essere preso in considerazione per dei tentativi di ingresso buy, e cioè il superamento di questa zona qui, perché in effetti se e qualora questo minimo fosse effettivamente il minimo di una close di un annuale, lo sappiamo solo dopo, ovviamente non possiamo saperlo prima, ma il superamento di 19.600 circa con close daily potrebbe configurare l'inizio di un trend laterale rialzista e ovviamente non andando più qui sotto, ragazzi, in quanto se quello è il minimo di un ciclo annuale non ci scendiamo più al di sotto di questo livello, allora sarebbe interessante perché magari per qualche mese e poi si può salire e questo livello di price, di ingresso long potrebbe essere anticipatorio, rischiosissimo, però non gestibile perché magari un ingresso long in quel livello lì poi con uno stop messo sull'ultimo minimo, vi faccio vedere dove, qui in pratica uno stop messo qui sotto, ragazzi, a 18.000 circa, io vado long qui, metto magari uno stop che è diciamo molto profondo, ecco chiamiamolo così, però qualora dovesse essere in effetti il minimo del ciclo annuale, poi io qui sotto non ci torno mai più e sto su, e quindi in pratica ho fatto l'acquisto per i prossimi mesi. La probabilità che questo sia il minimo di una chiusura di un ciclo annuale è bassa al momento, quindi io questa configurazione di long eventuale non la farei mai in posizionamento holding, ma la farei solo e esclusivamente in trading, quindi con dovute accortezze sia in termini di quantità di long sia altro. Al momento l'ipotesi più comune è quella che da questo mensile, qui si è iniziato un mensile che Bitcoin ha già virato a ribasso, anche la configurazione del pump iniziale è down, è tipica anche di quelli che sono dei cicli mensili, o dei cicli in generale ribassisti, con un massimo fatto nella prima parte del ciclo. Se dovesse essere così, fra un po' di tempo, quando questa fase mediana finirà, noi inizieremo di nuovo la fase discendente del ciclo, per andare in chiusura del mensile, che teoricamente viene portato in chiusura, ragazzi, verso la prima decade di ottobre. Questo significa che, se questo ciclo mensile deve ancora chiudere, non è stato truncato qui, con una forma un po' anomala, i giorni di stabilità di Bitcoin iniziano ad essere contati, poi dopo però c'è da dire che può essere anche che Bitcoin faccia una specie di trading range con un leggero doppio minimo, ragazzi, anche questo non è malvagio come idea, magari andando a toccare leggermente il minimo che aveva fatto qui a luglio, quindi lasciato in basso, perché no? Allora, tante valutazioni possibili, fino a quando siamo nella stabilità dei prezzi, è interessante andare a vedere questa fase, perché più il tempo si allunga, meglio è, ragazzi, perché se non perdiamo tanto terreno in tempi brevi, e più il tempo ciclico si allunga, poi alla fine andiamo a chiudere il ciclo mensile, e lo facciamo magari velocemente, questo non sarebbe male. C'è la questione di Ethereum, che un pochettino ci nascia, ma con alcuni dubbi, perché mentre Bitcoin ha fatto il famoso minimo del ciclo annuale, Ethereum no, ragazzi, ed è questo il vero, 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 vero dubbio, perché qui abbiamo di gran lunga un atteggiamento ciclico diverso, cioè Ethereum non può aver chiuso l'annuale il 21 di settembre, ragazzi, quindi o l'ha chiuso qui il 19 di giugno, ma è veramente troppo anomalo, molto anomalo rispetto a Bitcoin, o la ipotesi più probabile è che nei prossimi giorni tenti di fare un doppio minimo, e allora quello poi potrebbe essere la chiusura del ciclo annuale di Ethereum, se così fosse anche su Ethereum abbiamo giorni contati di questa fase di respiro, e andrebbe considerato, ovviamente il trend ribassista su Ethereum anche di breve, ha fatto la figura famosa con il massimo qui, che si chiama Gatekeeper, di cui vi ho parlato praticamente in tutti i precedenti video, chi di voi l'ha tradata, io l'ho fatto, vi dico francamente, ve l'avevo già parlato, ha fatto una super operazione, perché era un trade, ragazzi, in short selling, praticamente una telefonata, come si suol dire, verso la prima decade di ottobre si va a chiudere questa struttura ciclica mensile, se il mensile di Ethereum è iniziato il 29 di agosto è ribassista, anche il mensile di Ethereum insieme a quello di Bitcoin, vedete qui che è stato breccato a ribasso, a quel punto questa fase di rimbalzo ha i giorni contati, per esempio già vi faccio vedere un livello proprio di brevissimo da trader, diciamo così, al di sotto di 12.007 in cross daily, probabilissimo che Ethereum vada a tentare di breccare questo minimo a 12.000, scusate, 12.000, 1.200 e vada a breccare tentando appunto di riavvicinarsi a questa zona qui, ragazzi, questa che è la zona a quel punto che sarebbe calamitata, cioè la zona che funge da calamita per i prezzi di Ethereum. Solo e esclusivamente un superamento di 1.400-1.500 configurerebbe un leggero recupero, però l'Ethereum ha molta strada perché il precedente massimo di swing è addirittura 1.800, ragazzi, quindi teoricamente fino a 1.800 non cambia niente e quindi la struttura ciclica e tecnica di Ethereum è un po' più ballerina. secondo me dipenderà molto da quello che farà Bitcoin in questa fase, bypassata la questione del merge di Ethereum, dovessero effettivamente tirar su delle news che Ethereum è una security, perché fa il pre-posteck eccetera, il capitombolo è dietro l'angolo e ci sta, ragazzi. C'è anche da dire che però non potrebbe anche, cioè potrebbe anche non essere negativa una cosa del genere, nel senso andiamo a chiudere definitivamente questa fase e poi palla al centro, perché sotto questo livello chiude anche lui l'annuale e poi magari se ne parla. Quindi vediamo da questo punto di vista. Su Ethereum ci sono meno punti di ingresso secondo me long rispetto a Bitcoin, non è detto che se magari Bitcoin sfocia long a Ethereum poi non fa performance migliori, ragazzi, però non abbiamo dati tecnici, cioè segnali tecnici di analisi tecnica. Si potrebbe optare, se volete magari ragionare su long sulle crypto, di attendere il segnale su Bitcoin e entrare nell'ecrypto invece che su Bitcoin, perché su Bitcoin ha un segnale più pulito. Questo è una tips che vi do, un trucchettino che vi do, che si può utilizzare se siete dei trader. Ovviamente ragazzi non consiglio di finanziare, non fate queste cose se non avete formazione, non avete studiato sul trading perché vi fate molto molto male. Non si può fare investimenti e trading nei mercati senza avere le basi di formazione, ragazzi. Quindi leggere qualche libro e fare dei corsi di formazione. È fondamentale comprendere questa cosa, va bene? Allora, sul minimo invece di Nasdaq, Nasdaq proprio attaccato ai minimi di giugno, secondo me tenterà di romperli nella chiusura anche Nasdaq. e se fa una cosa del genere va probabilmente a chiudere magari un annuale, che dovrebbe essere l'annuale iniziato in questa zona qui, ragazzi. C'è da dire che sul Nasdaq c'è da fare tanti riferimenti, perché in pratica noi non abbiamo una struttura ciclica molto pulita di Nasdaq 100, dovuto al fatto che il mercato in pratica è stato iperdrogato durante la pandemia, sale praticamente di continuo e vedete qui se io vado a farmi i calcoli delle strutture cicliche mi portano a un ciclo che è ancora lontano da chiudere, ci vuole febbraio. Quindi c'è da ragionare sul Nasdaq 100 e da ragionare molto in modo differente, non mi va di fare un'analisi oggi proprio sulle strutture di lungo periodo cicliche di Nasdaq, l'avevamo fatte anche recentemente, infatti io qui ragazzi vi ho indicato una struttura che può tener conto del ciclo annuale iniziato qui di Nasdaq, quindi a giugno, oppure se non è così probabilmente Nasdaq andrà a chiudere la sua struttura ciclica annuale verso la fine dell'anno, questo è il discorso, ma a quel punto è un pochettino da attendere con questo tipo di andamento e insomma i mercati continuano a scendere. Secondo me questa struttura si risolverà molto andando a ragionare su quella che è il tasso di infrazione nei prossimi due o tre mesi, io penso che il mercato ne tendrà molto conto ragazzi del tasso di infrazione negli ultimi tre mesi perché ha contornato il concetto che la Federal Reserve aggredisce e sala i tassi senza ombra di dubbio, questo ormai Pavel è stato chiaro a dirlo, quello che ha molto valore è come reagisce all'infrazione perché se la banca riuscirà a tenere sotto controllo l'infrazione allora a quel punto i mercati secondo me potrebbero fermare la loro discesa e anche Nasdaq magari chiudere la struttura ciclica in maniera più semplice senza fare grandi grandi disastri, grandi drammi. Questa è la situazione attuale ragazzi e per questa settimana diciamo c'è poco da dire, vi faccio vedere anche il total market cap, intanto un'occhiadina gliela diamo, anche qui ragazzi sembra in fase di attesa della chiusura dell'annuale quindi questa zona sarebbe la zona migliore per chiudere l'annuale in questa zona qui ragazzi. Doveste fare una cosa del genere e valutiamo perché ragazzi una chiusura dell'annuale delle criptovalute in un contesto del genere è molto ghiotta per una serie di motivi perché voglio attendere e vedere un'infrazione sotto controllo da parte della banca centrale e la possibilità di una chiusura ciclica e quindi un timing adeguato favorevole all'investitore e poi cripto picking sui progetti più interessanti allora perché no si ci può preparare un annuale ghiotto e a qualcosa che potrebbe avvenire ma il tutto quello che stiamo dicendo adesso ragazzi è in divenire necessita di conferme quindi la prima conferme è attendere questo mensile se bitcoin ce l'ha ribassista dobbiamo sta fermi e solo short selling e non c'è niente da fare. Poi un eventuale riposizionamento holding alla fine di tutti questi discorsi e soprattutto solo dopo che i dati macroeconomici ci mostrano un'infrazione sotto controllo da parte della fede può essere preso in considerazione e magari ne parleremo di quello nei prossimi mesi quando avremo dati più chiari. Per oggi è tutto fatemi sapere cosa ne pensate voi invece di tutta questa situazione se riuscite a gestire le pressioni di trading in short selling e io ne sto facendo parecchie magari in una live le andiamo in questa settimana le andiamo ad analizzare perché no visto che non abbiamo fatto la live la scorsa settimana. Va bene ragazzi ciao a tutti e buon inizio settimana.